Capaccio Pestum e Camerota figurano tra le 54 località turistiche italiane ammesse a finanziamento per progetti su sicurezza e pulizia delle spiagge nell'ambito dell'iniziativa denominata Spiagge Sicure, predisposta dal Ministero dell'Interno. Il progetto in questione riguarda principalmente l'assunzione a tempo determinato di personale della Polizia Locale, il pagamento degli straordinari, l'acquisto di mezzi e attrezzature da fornire al personale dei comuni per il contrasto all'abusivismo commerciale e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione. Al solo comune di Capaccio Pestum sono stati assegnati 50.000 euro, corrispondenti al massimo importo finanziabile.